buonasera buonasera a tutti dalla voce di chi non ha voce non lo faccio spesso ma oggi ho deciso di farlo perché è davvero bella una serie tv che ho appena finito di vedere in realtà è una serie che ancora non è finita perché l'anno prossimo ci sarà la quarta stagione sarà anche l'ultima sto parlando di 13 è una serie a mio avviso meravigliosa quando qualcuno mi chiede qual è la tua serie preferita la mia risposta è lost e poi a secondo posto probabilmente breaking bad e dexter ma da quando ho ultimato 13 direi che dopo lost che rimane comunque in un posto speciale del mio cervello a secondo posto ci metto 13 è una serie che all'inizio vi può apparire molto team però non è un qualcosa di team nel senso di banalotte superficiale non è qualcosa di interesse solamente per i ragazzini lo potete guardare tutti è chiaro che se siete adolescenti o ventenni sentite magari quelle dinamiche più vicine temporaneamente parlando a voi ma una serie che merita qualunque sia la vostra età parla di bullismo parla di rapporti tra giovani parla di scuola parli rapporto con i genitori parla di droga parla di sesso parla di violenza parla d'amore parla davvero di tutto e lo fa a mio avviso questa serie in maniera approfondita non è banale le cose non sono mai lasciate al caso non sono buttate lì sono proprio approfondite e la cosa che più mi è piaciuta è anche il fatto che tutti i personaggi di questa serie più che altro sono molto credibili e anche coerenti non c'è non è classica serie in cui un personaggio dall'oggi al domani diventa un altro no secondo me c'è un'attenta coerenza per quanto riguarda la psicologia dei vari soggetti in più tutti vengono considerate analizzate ed approfonditi in quanto tutti sono esseri umani anche il cattivo della situazione il bulbo il più spregevole che si macchia anche di reati tra i peggiori in assoluto e non sto a spoilerarveli anche quel tipo di individuo lì è analizzato in profondità si cerca di scavare sul perché sul perché agisce in quel modo è una serie che vi consiglio la la prima stagione di scusate la prima sì prima stagione di 13 è incentrata sulle 13 cassette si chiama proprio 13 perché una ragazza sostanzialmente si suicida e lascia 13 audio cassette di quelle vecchie rivolte a 13 rispettivi ragazzi che sono 13 compagni di scuola e sono spiegate le ragioni che hanno portato alla sofferenza e quindi al suicidio e la prima stagione è questo e per all'interno ovviamente di questa storia vengono fuori tante tematiche ok perché il pretesto e poi del suicidio di questa ragazza ma poi si parla di tanti argomenti che hanno a che vedere i giovani ma in generale gli esseri umani le famiglie anche la seconda stagione è un pochettino più in colore però secondo me è comunque godibile non è la classica seconda stagione che ti fa incazzare in quanto rovina una serie no secondo me un po meno intensa della prima ma si può guardare ed è incentrata sul processo che si diciamo mette in atto per il per via del suicidio di questa ragazza cioè si trovano dei colpevoli che possono aver contribuito alla sofferenza di questa ragazza e ne viene fare un processo insomma perché i genitori ricorrono alle vie legali tutto è incentrato su questo la terza stagione a mio avviso è meravigliosa e al livello della prima o addirittura la supera non c'è più anna e la ragazza che si era suicidata lasciando le audio cassette non c'è più traccia di lei la storia parla d'altro sostanzialmente qualche riferimento molto orguto per ricollegarsi un pochettino anche alle cassette della prima stagione però è la probabilmente la la stagione che più mi è piaciuta l'ho appena fitto di vederla come ce l'ho fresca fresca della mia mente perché davvero lì si vede il tentativo diciamo si 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 trova dinnanzi al tentativo di scavare a fondo sulla psicologia dei personaggi e non c'è il banali e sono buono tu sei cattivo va in galera eccetera no tutti trattati come persone anche ripeto colui che si macchia delle peggiore gesta e sono più di uno c'è proprio molto umanità e ce n'è bisogno in un'epoca di grande qualunquismo di grandi linciatori gente che vorrebbe buttare la chiave dire ma hai fatto questo ora devi soffrire le pennelli verano c'è tantissima umanità che non significa ingiustificare significa capire le ragioni che possono portare anche alle cose più orribili di questo mondo quindi insomma è una bella serie prima seconda e terza stagione la quarta uscirà il prossimo anno e sarà l'epilogo guardatela guardate tutte le tre stagioni e poi fatemi sapere che ne pensate se secondo voi vi ho consigliato bene o non vi è piaciuta se l'avete già vista però ripeto guardatele tutti e tre perché per me già la prima è comunque una buona serie già solo guardando la prima stagione ma se vuoi guardare la seconda e la terza ti viene un senso di soddisfazione perché è una serie che parte da un alto livello e poi scema che diventa magari banale o fastidiosa no anzi da un certo punto di vista almeno dopo aver visto la terra è quasi migliorata ti dà più un senso di completezza non è solamente la storia di una ragazza ma è qualcosa di più allargato a dinamiche di cui sono vittime i giovani e in generale gli esseri umani c'è molto anche della famiglia del rapporto genitori figli dell'importanza che questo può avere e così via guardatela se avete vista aspetto già i vostri commenti se la vedrete commentate anche magari più avanti dopo che la siete vista comunque oltre alla trama molto bella approfondita è una di quelle secondo me di quelle serie che appena finisce una puntata e subito voglia di vedere la seconda di me la sono mangiata al ritmo di cinque puntate alla volta più o meno 40 minuti luna se non mi ricordo mai tranne l'ultima puntata dell'ultima stagione che dura un'ora ore 10 niente volevo dirvi questo anche se siete soprattutto se siete ma non solo giovani siete a scuola avete magari delle situazioni familiari non particolarmente piacevoli anche a scuola guardatela guardatela perché potrebbe farvi del bene chiaramente è una serie non leggera è piuttosto pesante ci sono delle scene delle situazioni che potrebbero coinvolgervi molto quindi guardatela consapevole del fatto che insomma non sento si guarda questa serie per ridere però a mio avviso mi può far riflettere e vivo far capire che se le situazioni spiacevoli non siete giudici a vivere questa situazione spiacevoli ok ovviamente il fatto che ci siamo tanti altri che soffrono di cose simili non significa necessariamente stare meglio anche consolazione però per farvi capire che non siete gli unici è un mondo in cui di quelle cose soffrono molte persone e parlarne è importante soprattutto anche di dinamiche familiari negative che poi comportano delle sofferenze caratteriali nei figli che non solo sconvolgono la vita dei figli ma che addirittura possono sconvolgere la vita altrui cioè se tu genitore sei un pessimo genitore non solo tuo figlio ne risentirà perché magari diventerà un bullo diventerà cattivo ma proprio perché tuo figlio può diventare un qualcosa di quel tipo lì poi la vita di altri può essere condizionata quindi pensate la responsabilità dei genitori e ovviamente anche in questo caso perché altrimenti ci sarebbe un'incoerenza di fondo anche il genitore che per via delle sue mancanze fa del male al figlio questo figlio fa del male agli altri anche lui deve essere trattato comunque come una persona perché a sua volta ha avuto un genitore che però di queste cose è importante parlarne per capire come funziona l'animo umano le conseguenze che ne derivano perché altrimenti se non si conosce la verità si è pesci fuori d'acqua conoscendo la verità non è detto che sia facile trovare una soluzione ma intanto sai dove ti muovi sai il perché delle cose altrimenti si è completamente in balia e non si sa il perché di niente magari poi si vota Salvini non so che qualcuno mi detesterà per questa mia conclusione però ci stava troppo un abbraccio commentate se ti piace il mio canale e vuoi che continui per sempre a fare video puoi sostenermi aderendo al mio Patreon con donazioni a partire da un euro al mese per farlo è semplicissimo basta aprire la mia pagina Patreon cliccare in alto a destra su become a Patreon attendere pochi istanti e scegliere se donarmi 1, 2, 5, 10, 20 o 50 euro al mese il gruppo whatsapp degli eroi e delle eroine e altri contenuti esclusivi ti aspettano per aderire o per saperne di più trovi il link in sovraimpressione nel primo commento o nei titoli di coda grazie a tutti grazie a tutti